È un piacere essere tornato in Italia, soprattutto essere tornato in una grande squadra come la Sampdoria, una squadra storica. Ringraziamo a nome di tutta la società, a nome del club, perché siete parte di noi. Ne abbiamo tutti ragazzi, un applauso! Sono appena arrivato, ma ho visto già il tifo, molto caldo. Grazie a tutta la squadra, ringrazio l'internista per andare a dirlo. Ringrazio tutti voi! Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti